Vediamo già un agosto con eccezione della prima quindicina di giorni, dai primi 15 giorni del mese di agosto in cui è previsto poi l'arrivo al 3 di agosto del G20 che porta un certo numero di persone in città, quindi aumenta di grosso i flussi che abbinati ai flussi turistici del momento porta la città a un buon livello di saturazione ma già dopo il 15 di agosto vediamo una discesa negativa dei flussi con addirittura registriamo oggi già delle cancellazioni di gruppi nel mese di settembre. Così Maurizio Giudici, vicepresidente di Federalberghi Trieste, su quella che è la prospettiva per settembre che al momento già registra una serie di cancellazioni soprattutto per quanto riguarda gruppi di turisti che timorosi rispetto a una nuova ondata pandemica di Covid iniziano a cancellare. Ma vediamo quello che è il punto sul mese di giugno appena trascorso e sul luglio che deve ancora concludersi dal punto di vista delle presenze in città. Di favore positivo al mercato, complice anche probabilmente il ponte del 2 giugno che cascava un mercoledì quindi ha pagato i due weekend e abbiamo visto un giugno discreto, un giugno buono. Invece stiamo vivendo purtroppo un luglio timido, un luglio che ammassa le pronotazioni durante il weekend tra il giovedì, venerdì, sabato e domenica lasciando parecchio vuoto le prime giornate della settimana. Manca tutta la parte ovviamente business che è ancora bloccata da smart working e dal blocco dei flussi di tutta la parte congressuale, la parte business. Salve, in vacanza a Trieste? Sì. Che impressione avete avuto? Beh, Trieste è una bellissima città, è stupenda, è magnifica. Bellissima, siamo molto bene a parte il caldo che va bene, però bellissima, infatti adesso stiamo cercando di capire dove andare, cosa andrà a vedere e poi ce ne andiamo in Croazia però. Uno degli altri effetti negativi della pandemia sul turismo a Trieste è stato quello di riportarla all'epoca dello short break, ovvero della città visitata in due, tre giorni e basta. non ci sono più le settimane piene come il 2019 e i due, tre anni precedenti avevano abituato gli albergatori. Dove arrivate? Beh, noi abitiamo a Belluno, siamo in vacanza a Bibione, siamo qua in gita, in bicicletta a Trieste. Abbiamo scelto di visitare la regione, quindi oggi Trieste, abbiamo fatto Valtramontina, Valcellina, vacanze che consiglierei. Una delle speranze per rimpolpare il turismo di quest'estate è proprio legata al bonus turistico regionale, abbiamo appena sentito una turista che lo sta sfruttando. Sì, sta dando alcuni riscontri, sia il nazionale che è ancora attivo, sia il regionale e aiuta un po' a sollevare il problema che dicevamo prima sulle tasche degli italiani.